Musica Buonasera e ben chiatate a Novis. S'commencingo la cronaca, 6 appartamenti di un stesso condominio a Udina sono stati visitati da Laris in taitis di Madonna e Diavosta, approfittando e assente dai parons di chiasi per sferi sestivi. I Laris, che per rientrare hanno discentenato quarti e scancarati in fissa, ha passato di un appartamento a un altro, traverso l'isteraccio tra il quarto e il quinto plan degli edifici. Con tanti aure e zoi, il bottino in realtà è abbondato e magro, stante che in diversi appartamenti I Laris non ha chiatato noie. Non è escluduto che altri appartamenti dai 25 del condominio a sedi in stas colpiti da Rubarise, con cui ha l'abito però anche mo' in feris. Incidenza stradale grave a Damar sulle strade che collega il centri Tierniel al svincolo autostradale. Un'auto guidata di un'efemmine ha invaduto la corsia oposte, centrante in maniera frontale un trattor che ha trasportato e blav. Ave la pese e gli stadi la guidatore delle vetture, restate in tia strada tra i lamari in sede auto, tant che all'estate necessario l'intervento dei sguardi dal FUC di Tumiecce. E gli stadi li trasportate in condizioni gravi al pronto soccorso di Catinara a Trieste. Intervenuti anche gli agenti di polizia e locali per determinare le cause dell'incidente. E sarà fatta in taitis che aveva in contune campagne di avviso ai popolazioni la disinfestazione antimussata in taitis comuns dall'interlanto udinese a pericolo West Nile. La disinfestazione, programmata in origine per il Dignot, è stata annullata per impossibilità di divisiare la popolazione dal pericolo con obbligo di tigni, quarti, sierati e barcone, la proibizione di fare la fura animale in sardini. In più, che ha consumato pomis e ortais in taitis delle zone di disinfestazione in taitis 72 ore dopo. I comuns interessati di disinfestazione sono Tavagnà, Udin, Pagnà, Reanne d'Arroyal, Tresesin e Paulette. L'analisi è anche attratta di fatto il virus di West Nile in diversi esemplari di Moschins in te frazioni di DDA. Si è presente all'aeroporto di Ronchis di Monfalcon con un passeport falso e alvenne arrestato e portato in presione a Gurizze. All'è succeduta, madonna di avosto, con un nome di 33 anni, che alla Cirù di passare i controlli di sicurezza mostrante con sicurezza un passeport alterato. I controlli di polizia di frontiere però hanno smascarato la contraffazione fermante l'OMP. Dopo due dì di presione, il Tribunale ha validato l'arrest e fatto buttare fuori d'Italia l'OMP di 33 anni. E un'OMP di 77 anni furlano all'estate mette in salve dopo gli essi stati notati di due passanti distirati sul Glereal dal Torrente Racolane. L'OMP vestita di escursionista l'erecente fuarcis e all'estate portata a Valda e soccorri d'Orsi in Bareglot. Alla contà di Vepassati il Valon Blasic fin a Tamaroz, arrivante dopo in tal Glereal dal Torrente. Un suo corridore, che alveve passate sabide e propite che il tratto di Troi, ha la ditte di veicchiatato un'etorce e un'ebarete che l'anziana l'ha riconosciuta tant'che siei. Queste al volare di che l'OMP, che per lui noi eri impartiti gli ricerci, si chiatave in te zone di tre di is, all'estate ricoverati in ospedale, disidratate a Fuarte. E cresce la produzione industriale in Friulvinesi e Iuglie. Fa sint, segna un dato anche i miei rappetti dal primo trimestre dell'anno. Alla eccettante che vengono dall'Ufficio Studis di Confindustria e Udin, che hanno elaborato i risultati dell'investigazione trimestrale di Confindustria e Udin. La produzione ha fatto segnare un più di 1,9%, tirate in particolare le siderurgie, dal lente e le chiarte. A farci segnare invece segni negativi la meccaniche e il settore alimentare. Ha preoccupato al futuro, le la possibile impenade dai presi dal gas, che ha le varie incidenci pesanti sul monte del lavoro, in più che sulle sfameis. SIS-AINS, in DAUR, un taramot di magnitudo SIS, alla distrutta all'impleni paese di Amatrice, Accumoli, Arquata, Daltronto, e un sessantino di altri centri, se borgs causante 299 vittimis. I Friulvinesi e Iuglie, che aveva terminato appena di celebrare i 40 AINS dall'Orcolat, e intervigni tra le primi regioni creando con la protezione civile un'etendopoli, che ha dato ripare a centenarze di dispatriazze. La filiera d'allenge regionale in Vezite ha costruita in precord un'estruttura per votare i storanze e un'etaule scolastiche in che è il Cagliere, il centri di Amatrice. E perché stessere, alle dute, si torna a Vio di domani, sempre e annuffe manco il Vinge. Mandi. a l'attenzione. a on a a Grazie a tutti.